La settimana scorsa vi avevamo mostrato le scritte ingiuriose ai danni degli albanesi comparse in diversi punti di via Garibaldi e del centro storico nel perimetro di piazza Costanzi. La proprietaria di un'abitazione dove era comparsa una delle scritte aveva tra l'altro affisso due cartelloni coprendo le brutte scritte con un messaggio chiaro all'indirizzo degli imbrattatori e rassicurando i componenti dell'etnia abbanese che lì in quella casa e nella zona nessuno ce l'aveva con loro. A una settimana di distanza la signora Francesca ha tolto i cartelli e ricoperto la scritta con della vernice bianca in attesa di ridepingere tutta la facciata del palazzo. Ma nel tempo che questo cartello stile mettete dei fiori nei vostri cannoni è rimasto affisso ha suscitato non solo il sostegno all'iniziativa da parte dei suoi vicini di casa ma anche tangibili manifestazioni scritte di pugno sui cartelloni scritte di solidarietà verso le persone offese e la stessa signora Francesca e di condanna e disprezzo verso gli autori del brutto gesto. Oggi inoltre grazie all'opera dell'associazione Regresso Arti incaricata dal comune di Fano sono scomparse anche le scritte e i disegni osceni anche sulle pareti della scuola comunale nelle vicinanze. Altri cittadini e condomini poi hanno provveduto a cancellare e coprire le tracce di questo gesto volgare come accanto al fruttivendolo nei pressi della posta centrale o accanto all'agenzia viaggi sempre lungo corso Garibaldi. Resistono purtroppo e speriamo che presto invece vengano cancellate quelle in Piazza Costanzi ed in una traversa laterale.